Allora ragazzi dobbiamo tenere le mani, se mettiamo le mani giuste ci fermiamo, il percorso è talmente semplice che come arrivare solo quello che ci dobbiamo fare, ok? E ce ne sanno già due che stanno cercando, ma bamba per corchio E' molto semplice, vi faccio andare campiando Vai, vai, vai Ed ecco con lei che è stata capace Io faccio questo, va bene Questo va bene la stessa Dai, dai, dai Facciamoci la stigola, va Vai, vai Vai Bravissima Bravissima Pronta? 3, 2, 1, go Gravissima Tama Grazie a tutti. Grazie a tutti.